Basta, 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 finisce sto campionato Quando finisce? No, giochiamo ancora martedì, recupero Io non voglio più vederne partite, non ce la faccio più Non ce la faccio più, ragazzi Madonna, 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 madonna Ci mancava anche sto derby, ma Cattroia, raga Io, ragazzi, sono depresso E la parola, ma io cosa mi sfogo? Ma cosa mi sfogo? Cosa mi sfogo? Che siamo, facciamo ridere! Zeko sembrava ben Zema stasera Partita migliore di Zeko quest'anno Ci sarà un motivo E noi ci abbiamo Murici! C'è loro, stanno gettando le basi per il futuro Stagione fallimentare Della Roma, va bene Però, almeno, stanno facendo giocare Villar Hanno scoperto questo Darboe Calafiori Noi siamo ancora con Lulic Eeeh Campacavallo Che ci svegliamo Ma vaffanculo, va Ma vaffanculo Perché in una stagione in cui non è concluso un cazzo Almeno, dici, dovresti fare giocare qualche giovane Almeno il prossimo anno sono già rodati No, no, vai tranquillo Gli ha mercato, ripeto L'ho detto nel live di ieri, dell'altro ieri Mercato di quest'estate Bocciato su tutti i fronti E oggi è l'ennesima dimostrazione Perché sembra che questo Murici Siamo proprio costretti a farlo giocare Sembra che Inzaghi li puntano una pistola alla tempia Perché poi appena può lo toglie Cioè ragazzi, oggi Murici Pensate che è stata una delle migliori partite che ha fatto Cioè vi rendete conto Questo vi Rende l'idea della dimensione di Vedat Murici Se sto qua va rallentatore Oggi qualche scatola ha fatto in profondità Ma ragazzi, ma non ce n'ha Non ce n'ha sto giocatore È un giocatore che a me non mi dà mai la sensazione di essere pericoloso E ciò vuol dire che sei scarso Non è questione tecnico, tattico Sei scarso Sei scarso Cazzo E la Roma, è la Roma Ti ha battuto con le tue armi Hai capito? Perché come detto Se tu giochi sempre allo stesso modo Gli altri ti disgamano prima o poi Il gol della Roma come è nato Ve lo dico io come è nato Da una palla persa da Immobile Che oggi su dieci palle che ha toccato E ne ha sbagliate undici Ok? E se tu sbagli uno o due palloni Bene Ma se ne sbagli dieci Prima o poi il contropiede lo prendi E ti fanno gol È chiaro? Perché io su questo canale Non è il canale del politicamente corretto Che Immobile e Cerbi non si possono toccare No Qua io vi dico la verità Cosa che anche oggi i telecronisti Non vi hanno detto Che si sono fatti la sega Sul tacco di Immobile Bello ma tanto È una cosa Era fuori gioco A parte quello Ma Immobile Male anche oggi A Cerbi Disastroso oggi Ok? Però ste cose Non ve le dicono gli altri È facile prendersela Sempre con gli stessi Patrick oggi è colpa di Pano Patrick non ha giocato È colpa di Stracoccio No Stracoccio No Ce la prendiamo anche un po' con tutti Ok? Perché siamo una squadra Cotti Bolliti Totali Tutti quanti E a Cerbi quest'anno Male Quest'anno sotto il rendimento standard Eh Sarà l'età Sarà che giochi in una squadra Che è in difficoltà in generale È male anche lui Eh Oggi Zecco Come mai migliore partita di Zecco Quest'anno contro la Lazio Contro a Cerbi È un caso? Non lo so se è un caso Non mi sembra Comunque Palla persa da Immobile Il primo gol Con due passaggi La Roma va in porta Vi ricordate all'andata Come abbiamo fatto gol? Così Ok? Verticalizzazione Per il Sharawi Palla visionaria Di esterno Per il Bosniaco Che salta a Cerbi Che Lì poteva solo commettere fallo da rigore Eh Ciaone Ti ha fregato sul primo controllo Palla in mezzo Nikita Rian Sa che Zecco è uno che C'è gli ha Quegli assist lì E fa gol Reina Che ovviamente Perché la Roma Io vado a vedere i tiri in porta Ne ha fatti tanti Ma importa quanti? O due tiri in porta Due gol Quindi Reina mantiene la sua media Due tiri in porta Due gol Però noi Quest'estate venderemo Stracoscia E prenderemo Beh Se prenderemo Cranio va bene Però ragazzi E Reina Addirittura ha rinnovato Fatemelo sapere Che non lo so E non lo voglio sapere Con tutto rispetto per Pepe Reina Però ragazzi Anche lì Non ce n'ha più sto qui Sei bravo con i piedi È bravo nelle uscite Però ragazzi Devi parare Cazzo Poi se sei bravo con i piedi Nelle uscite Va benissimo È fondamentale Nel calcio di oggi Però devi parare Cazzarola Poi il primo tempo Hai tenuto Sto possesso palla Ma è sterile È sterile Cioè non possiamo Attaccare sempre Sulla destra Lo sanno Cazzo Io ho visto andare Luis Alberto A battere un calcio d'angolo L'ha tirato basso Sul primo palo Cioè ma porca puttana Ma siete deficienti Nel cervello siete Io non ti sto dicendo Di far calcio spettacolo Ma neanche un calcio d'angolo Sappiamo battere Io mi sono rotti I coglioni Di dire sempre Le stesse minchiate Che sembro un coglione Anch'io Perché dico sempre Le stesse cose Cazzo Ma neanche un calcio d'angolo Di merda Sappiamo battere Porca troia Ma vaffanculo Primo tempo Qualche minchiata Lazzari Che porca troia La prima volta Unica Che ha puntato Bruno Perez L'ha saltato Però glielo dovevano Dire in zaghi Di 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 tentare il dribbling Se no lui sta tranquillo Che non lo tenta il dribbling Cazzo Ma io mi incazzo ancora di più Perché un giocatore Che le potenzialità Ce l'ha Ma si E ancora Non ha personalità E se non hai personalità Nella Lazio Non puoi giocare Cazzo Se vuoi arrivare quarto Se vuoi arrivare quest'anno Come arriveremo E ormai sesti Sì perché la Roma E il Sassuolo Direi che non ci possono raggiungere Se durasse il campionato Ancora un po' Forza arriveremo anche settimi Tanto Sesto settimo Non me ne frega un cazzo Capito Siamo sopra la Roma Non me ne frega un cazzo Perché io Godo se sono sopra la Roma Ma come l'anno scorso Se io sono quarto Quindi vado in Champions La Roma è quinta E vai in Europa League Non godo Per il derby dei poveri È chiaro Poi oggi A un derby Si doveva Vincere Invece Primo tempo Ci hai provato Hai preso gol Secondo tempo Zero totale Cioè io secondo le occasioni Da gol della Lazio Due nel primo tempo Una di Savic Che nonostante tutto La maschera Ha giocato una discreta partita Finché Diciamo abbiamo giocato Poi il secondo tempo È calato E una di Luis Alberto Sempre su una giocata Di Savic Che come detto È stato Comunque uno dei meno peggio Ok Poi ripeto Comunici Giochi uno in meno Ma io qua Se non c'è nasto Giocatore Basta Basta Correa Oggi ci è mancato Correa Quindi anche lì Sì Criticate Correa Criticate Correa Però intanto Oggi ci è mancato Perché Se non c'è Correa L'uomo non lo salta nessuno Almeno lui ci prova Poi a Cerbi Proprio Zero È stasera Zero totale Perché poi Sul gol di Pedro Cioè a Cerbi Ma cosa aspettiamo Andare a chiudere Cosa marchi A otto metri Ceriteli Dovevi uscire te Caro a Cerbi Poi si è fatto Speller Ma vabbè Tanto la partita Era andata Però Bisogna dire una cosa Ce la siamo presa Con Ut Ce la siamo presa Con Patrick Con Radu Ma quest'anno A Cerbi Non attenuanti È male anche lui Se devo fare un bilancio Della stagione Contando che a Cerbi Male anche lui Ok Poi Ha delle giustificazioni In parte Perché Siamo in difficoltà Come reparto Come fase difensiva Però Male anche lui Capito La Roma Ti ha aspettato Più basso Non ti ha concesso La profondità E noi sappiamo Solo giocare così C'è la nostra giocata Classica È la verificazione Di Luis Alberto Per l'inserimento Di Savic Che è successo Al primo tempo Però ormai le squadre Lo sanno Attacchiamo sempre sulla destra Immobile L'hanno lasciato sempre In fuorigioco Murici Io Murici Oggi Guarda Ci ha provato Più di altre volte Però ripeto Giochi uno in meno Ok I cambi I cambi I cambi Luis Felipe Pereira Fares C'è ragazzi ACVAPRO Sempre i soliti cambi Non ce ne abbiamo Se noi Non possiamo sempre sperare Nel gol di Caicedo È finito Quei tempi lì Del gol di Caicedo Dai Va boh ragazzi Dai Io chiudo qua Stendiamo un velo pietoso Complimenti alla Roma Complimenti per i giovani Che fanno giocare Complimenti a Fusato Che oggi è stato bravo Kasdorp Mi piace Che non ne parla mai nessuno Ma è bravo Noi Mediocrità assoluta Di quest'anno Ok Ragazzi Un like di consolazione Iscrivetevi al canale Bella